Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e v-bugs nel mentre supportare il power of the nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto della e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di Fortnite ogni tuo futuro acquisto su Fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys Siamo a giocare con il v-sync attivo al torneo, c'è proprio scritto, cioè io gioco un altro po' così ma dopo un po' spacco tutto e non ci giocherò più e vaffanculo al torneo chiedo il rifugio del biglietto ti giuro Ma di solito quante cps stai? Eh no ma c'è il v-sync quindi li blocca con il mio framerate del mio mondo No adesso si lo dico normalmente Sopra i 200 ma non è quello, è il fatto che ci sono le ombre al massimo e tutte altre cose al massimo che creano dei problemi di visione e di incongruenze Cioè quando io mi muovo troppo velocemente per il gioco, il gioco mi lagga, cioè mi scatta Ma può essere anche la skin che è molto... No no ieri ho giocato con un'altra skin Ah Non cambia niente, stessa cosa, ma c'è proprio ritardo pure nei comandi, cioè io premo il tasto per sparare e mi spara dopo Mi sembra tutto zoomato a me poi Metti che non faccia quel lancio razzi Grazie Cioè io non so se tu lo vedi dalla stream com'è la situazione ma è proprio tutto più lento Ogni tanto tipo mentre stai luttando una cassa Tu andavi bene, il gioco si era mezzo frizzato, probabilmente l'ha fatto anche a te, non lo so Si si no, è frizzato e me le dà Infatti se vedi a volte tiro dritto O la gente tipo non vedo dove va Ma io non capisco come... cioè il gioco è bellissimo visivamente così ma che non si è ottimizzato è scandaloso Ma poi tutti sti effetti grafici non servono a niente alla fine Cioè sono esagerati pure Cioè sono molti più di quelli della play in gioco E... Sembra che sta a giocare un altro gioco infatti Ma pure graficamente è più bello a me senza tutti sti dettagli Perché è esagerato, c'è troppa roba su schermo Ieri Vivid si stava mettendo a piangere Non esce neanche lui ma non era così al pazza raga A me è difficile Penso che l'engine è ottimizzato per l'invidia Penso se vmd Ah quelli md si sparano in gola Che devi fare No post processing Vsync ragazzi è la peggior cosa Cioè io potrei capire tutti con lo stesso mouse e la stessa tastiera Anche se è super limitante ok Cioè uno può capirla una cosa del genere Ma... Regà Post processing al massimo Messo proprio a cannone a turbo Più gli effetti Più le ombre Le ombre Poi il Vsync Che è il male del gaming Il Vsync Ma che devi fa' Mi sento stupido mentre gioco raga Mi sento stupido Mi sento stupido mentre gioco sua Grazie per aver guardato il video Mamma mia raga Nell'ultima safe ragazzi Non ho la più paleta di come può essere il gioco Ho paura solo a pensarlo Senza se lagga pure i loro pc Ma è palese che lagga Non ce la fanno i server e le schede video I processori a stare dietro A tutti i building e tutta l'altra roba Ma a me Pure c'è un'altra cosa che mi spaventa Abbastanza Chi mi ha sparato C'è manco visto il proiettivo Non era il fortino Ma perché tu vedi meglio di me C'è qua c'è troppa roba su schermo Il fortino di metallo Si mi sa che era quello che tipo Tu dove hai ucciso il tipo Tu l'hai ucciso sotto la casa E lui è salito lì di nascosto Ma poi sembra che sto andando tipo a 025 Sembra che sto andando in 025 Lo sai Ma immagino Quando poi l'ho che si abitua A fare tutte Sì è cascavo di sotto vabbè vabbè ma almeno mouse e tastiera i tuoi ci sono no fantastico sempre meglio no no troppo difficile giocare contro una persona che cioè che c'ha tutte le carte in tavola a sto gioco cioè guarda pure che fatica che ho fatto a costruire questo li avrei pesciato in gola 18 volte quando è come gioco io che non è per fare il figo è però la difficoltà è estrema ma stanno facendo teaming non sono teaming stanno facendo teaming è schifo e ho vinto solo perché c'ho un lanciagazzi c'è una sorta da c'è il problema il vc oddio l'ho vittato lol ma non siete un cazzo da lontano dove hai fatto il muro ecco l'aula legge oh cristo ecco lontano ecco lontano ciao ragazzi mamma mia non è fattibile la difficoltà no non è giocare ragazzi abbiamo bisogno di un momento di pausa ci guardiamo lo skirmish un secondo non è fattibile giocare in questo stato non è concepibile bro non è concepibile con mouse e tastiera avere tutti questi ritardi cioè sono tipo nerfato cioè tipo please god nerf me ciao 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 ciao